Ciao e benvenuto in Crescita Personale con Luca Sadurni, il podcast che ti aiuta a migliorare te stesso e la tua vita grazie alle migliori idee ed ai più grandi libri su felicità, successo, gestione del tempo, educazione finanziaria e crescita personale a 360 gradi. Nell'episodio di oggi parliamo di rimpianti, o meglio di come evitare di avere rimpianti nella vita. Lo faremo analizzando il libro Vorrei averlo fatto, i 5 rimpianti più grandi di chi è alla fine della vita. Il libro raccoglie le testimonianze di tante persone che, ormai consapevoli di essere sul punto di morire, ripercorrono la propria vita, raccontando in particolare cosa rimpiangono. L'autrice, Bronnie Ware, si è ritrovata per molti anni a lavorare nell'ambito delle cure palliative, occupandosi di assistere tanti malati terminali. La scrittrice australiana aveva notato che sebbene le storie ed i percorsi di queste persone fossero diversi, i loro rimpianti erano abbastanza simili. L'idea alla base del libro è molto bella. Se vogliamo evitare di avere rimpianti nella vita, soprattutto nella sua fase finale, dovremmo prestare attenzione a coloro che alla fine sono più vicini di noi. Ascoltare una persona che si trova alla fine della propria vita può infatti aiutarci a prevenire eventuali rimpianti ed aiutarci anche a capire cosa è davvero importante nella vita. Passiamo adesso all'analisi dei 5 rimpianti più frequenti secondo il libro Vorrei averlo fatto. Secondo l'autrice del libro, uno dei rimpianti più frequenti tra i malati terminali di cui si era presa cura era quello di non aver vissuto in modo fedele a se stessi e di non aver preso le proprie decisioni liberamente. Prendiamo l'esempio di Grace, che nella vita aveva sempre fatto quello che gli altri si aspettavano da lei. Si era sposata molto giovane, aveva cresciuto i suoi figli e si era poi occupata dei suoi nipotini. Ma il suo matrimonio non era mai stato felice e Grace aveva trascorso molti anni sognando di vivere lontano da un marito sgradevole e dispotico che le aveva impedito di viaggiare e di godersi davvero la vita. Purtroppo non aveva mai avuto il coraggio di lasciare suo marito per non andare contro una sorta di dottrina della sua generazione ossia che bisogna rimanere in un matrimonio costi quel che costi. Ed ora, ormai ottantenne e vicino alla fine, Grace si rende conto che a causa di una stupida convenzione sociale ha sprecato il suo tempo e ha rinunciato a vivere una vita felice. Questa storia deve insegnarci che non dovremmo mai agire pensando a ciò che gli altri si aspettano da noi. Ad esempio, un giovane deve certo ascoltare i consigli dei propri genitori, ma non dovrebbe scegliere i propri studi e orientarsi verso una carriera solo per accontentare suo padre e sua madre, ad esempio. E se dentro di noi sentiamo di dover cambiare qualcosa nella nostra vita, dovremmo avere il coraggio di farlo, anche se questo potrebbe deludere le aspettative di un'altra persona. Passiamo al secondo rimpianto più frequente, ossia Vorrei non aver lavorato così tanto. Leggendo il libro ho potuto constatare che in quasi tutte le testimonianze possiamo ritrovare il rimpianto di non aver passato abbastanza tempo con le persone più care. Prendiamo ad esempio la testimonianza di John, un ottantenne gravemente malato che confida dall'autrice di rimpiangere di aver lavorato così tanto. John aveva lavorato sodo per tutta la vita e per ben 15 anni aveva rimandato la pensione, ma un giorno sua moglie Margaret si ammala gravemente. Aveva sognato per tanti anni il momento in cui suo marito avrebbe potuto passare più tempo con lei. Purtroppo questo momento non sarebbe mai arrivato perché dopo appena tre mesi dalla scoperta della malattia, Margaret muore. John trascorrerà quindi il resto della sua vita a sentirsi colpevole e soprattutto a rimpiangere di non aver trascorso più tempo con la sua amata compagna di vita. Possiamo quindi fare tesoro di questa testimonianza per evitare di avere un giorno lo stesso rimpianto. La nostra vita professionale è di sicuro molto importante, ma a volte tendiamo a dare un peso eccessivo al nostro lavoro. Allora dobbiamo renderci conto che, come recita una famosa citazione, nessuno sul letto di morte ha mai detto vorrei aver passato più tempo in ufficio. All'opposto, tante persone rimpiangono di non aver trascorso più tempo con le persone importanti della loro vita. È il caso per esempio di Phil Knight, il fondatore della Nike, che nella vita professionale ha avuto un successo strepitoso. Ma nella sua biografia L'arte della vittoria, Knight racconta di rimpiangere di non aver trascorso più tempo con i suoi due figli. E questo rimpianto diventa ancora più forte quando uno dei due figli muore in un incidente sportivo, perché Knight si rende conto di non poter recuperare il tempo che non ha trascorso con suo figlio. Personalmente adoro il mio lavoro e gli ho sempre dato un peso importante e probabilmente in alcuni momenti eccessivo. Con il tempo, e grazie ai libri come quello di cui parliamo oggi, ho capito che il lavoro non doveva schiacciare tutto il resto. In particolare, non doveva farmi trascurare le persone che amo e impedirmi di avere un po' di tempo per me stesso e le mie passioni. L'insegnamento che possiamo trarre, quindi, è che nella vita di tutti i giorni dobbiamo sforzarci di dedicare del tempo alle persone a cui vogliamo bene. Il terzo rimpianto più comune è Vorrei avere avuto il coraggio di esprimere i miei sentimenti. Ci viene raccontato attraverso la storia di Joseph, un 94enne che ormai prossimo alla fine della vita si rende conto di non essere riuscito a stabilire un vero legame con le persone che ama. Joseph aveva lavorato sotto tutta la vita e non aveva fatto mai mancare nulla ai propri figli e alla propria moglie e alla sua morte avrebbe lasciato loro tanti beni materiali. Il suo rimpianto è però di non aver espresso abbastanza i suoi sentimenti verso le persone che ama, al punto da sentire che nessuno di loro lo conosce realmente, nel profondo. Se potesse tornare indietro, Joseph passerebbe più tempo con la moglie e i figli, farebbe sentire loro il suo amore e trasmetterebbe qualcosa di più che dei beni materiali. Ora, ci sono molte situazioni in cui non esprimiamo i nostri sentimenti. Un classico esempio è quando si creano dei conflitti tra genitori e figli, che per anni si allontanano o magari anche tra fratelli, per poi rendersi conto più tardi di aver sprecato inutilmente degli anni preziosi. È un rimpianto comune quando ad esempio muore uno dei nostri genitori e anche in assenza di conflitti. In quel momento possiamo provare il rimpianto di non aver trascorso più tempo con la persona che abbiamo perso. Il quarto rimpianto menzionato nel libro è «Vorrei essere rimasto in contatto con i miei amici». Potremmo pensare che si tratta di un rimpianto valido solo per la generazione dei nostri genitori e dei nostri nonni, perché oggi, nell'era dei social, di whatsapp e simili, è molto più semplice restare in contatto con i nostri amici. In realtà, se andiamo a scavare, questi strumenti sono certo un grande aiuto, ma non ci impediscono di allontanarci dalle persone care. I social stimolano infatti delle relazioni superficiali. Sì, certo, siamo più aggiornati rispetto a quello che accade nella vita dei nostri amici, ma in ogni caso spesso non dedichiamo tempo per contattarli, fare una bella telefonata o magari vedersi e condividere dei bei momenti insieme. Bisognerebbe dunque sforzarsi di passare del tempo di qualità con i nostri amici. Intendo quelli veri, quelli speciali. Come ogni tipo di rapporto, le amicizie vanno coltivate e nutrite. Il quinto rimpianto citato è «Vorrei aver permesso a me stesso di essere più felice». È un rimpianto molto interessante perché sottolinea qualcosa di cui sono fermamente convinto. Essere felici è una scelta, o almeno cercare di esserlo. Ad un certo punto del libro, una delle pazienti dell'autrice le chiede, quasi infastidita, «Perché sei felice?». La sua risposta mi sembra molto interessante e voglio leggerla per te. Perché la felicità è una scelta, una scelta che cerco di fare ogni giorno. Alcuni giorni non posso, proprio come nel tuo caso. Come te ho avuto una vita difficile, in modi diversi, ma pur sempre difficile. Ma invece di soffermarmi su quello che non va e su quanto sia dura, cerco di trovare le cose belle ogni giorno e apprezzare il momento che sto vivendo quanto più possibile. Abbiamo la libertà di scegliere su cosa concentrarci. Io provo di scegliere le cose positive. Personalmente penso che essere felici non è una cosa semplice, ma che molti non si pongono in modo esplicito questo obiettivo così importante. Alla fine tutti gli sforzi che facciamo ogni giorno dovrebbero servire ad un unico scopo, essere più felici. Se un'attività non serve a questo obiettivo, diciamo, supremo, allora forse non vale tutti i nostri sforzi. Se ascolti questo podcast e leggi il mio blog, di sicuro ti interessa la crescita personale. Ora, se analizziamo per bene, scopriamo che se stiamo compiendo questo percorso di miglioramento personale è perché vogliamo essere più felici alla fin fine. La vita è certo piena di problemi, di imprevisti e di cose che non ci piacciono, ma esistono tanti modi per renderla più gradevole, più serena, insomma migliore. Ne parlerò di sicuro prossimamente in questo podcast e sul mio blog, anche perché il tema della felicità e di come essere più felici è uno di quelli a cui mi sono maggiormente dedicato ultimamente. Come nota conclusiva, volevo spronarti a riflettere alla tua vita, ed in particolare ai rimpianti che potresti avere un giorno. I cinque rimpianti citati possono fornirti un'ispirazione, ma ognuno di noi avrà rimpianti specifici e personali. Dovremo sforzarci di visualizzare noi stessi, anziani, ormai alla fine della nostra vita, e cercare di capire se la vita che stiamo vivendo le decisioni che abbiamo preso ci creeranno dei rimpianti, perché adesso siamo ancora in tempo per evitare di averne quando sarà troppo tardi. Come sempre puoi approfondire queste idee consultando i link in descrizione ed in particolare il mio articolo su Vorrei averlo fatto di Brownie Ware. Grazie per aver ascoltato questo episodio fino alla fine, spero che ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile. Ecco un po' di cosette che potresti fare per non perderti i prossimi episodi, aiutarmi a far conoscere il podcast ed anche aiutare altre persone che potrebbero trovarlo molto utile. Lascia un bel commento ed un voto se l'hai ascoltato su Apple Podcast o iTunes, clicca su Segui se l'hai ascoltato su Spotify o se sei su YouTube, abbonati e lascia un commento ed un like. Questo è molto importante per aiutarmi a proporre dei contenuti gratuiti e far conoscere a più persone quindi il podcast. E se ti interessano i grandi libri e le grandi idee di crescita personale, puoi raggiungere la mia lista di contatti e ricevere subito delle risorse gratuite per migliorare te stesso e la tua vita. Per farlo ti basta andare sul mio blog all'indirizzo lucasadurni.com slash podcast. Il nome del mio sito contiene il mio cognome che è un po' difficile da scrivere quindi ecco come scrivere all'indirizzo web l-u-c-a-s-a-d-u-r-n-y.com slash podcast. Grazie per l'attenzione, buona giornata o buona serata e soprattutto buona crescita! Grazie a tutti!